Un saluto a tutti gli amici che mi seguono. Oggi voglio parlarvi della ruggine. La ruggine ha dato problemi a tutti noi, a chi più e a chi meno. Il problema con la ruggine l'abbiamo avuto tutti. Allora, se noi non facciamo un lavoro fatto bene, avremmo sempre problemi con questa ruggine. Adesso, una volta, quando facevano i grandi lavori, i silos, eccetera, specialmente in riva al mare, una volta uscite o finite il lavoro delle officine, erano opere questi spettacolari. Che si faceva? Non si provvedeva a pitturare subito. Aspettavano che facesse la ruggine. Appena fatta la ruggine, mettevano un antiruggine, ma erano convertitori, perché qui non si parla di un, diciamo, di un cancelletto di case. Qui si parlava di opere, insomma, gigantesche. Bene. Quindi aspettavano che facesse la ruggine, non lo verniciavano subito, magari aspettavano anche un anno. Nelle zone di mare la ruggine avveniva prima. Si presentava prima, in effetti. Adesso, noi, rapportiamo queste cose al nostro piccolo. Allora, ci sono diversi tipi di ruggi. Questo è una ruggine cosiddetta scaglia, che comincia ad essere un problema. Dopo di questa, si verifica il buco, inevitabilmente. Questo è un altro tipo di ruggine. Questa è una ruggine che, in pratica, esce fuori da sotto la vernice e piano piano si espande. Allora, come dobbiamo fare? Però, se guardate, questa ha scaglie, c'ha delle scaglie, e questa no. Allora, questa quindi, il trattamento è molto più facile. Allora, qualcuno potrebbe venire in mente, dice, vabbè, io spiano tutto qui, eccetera. Stiamoci attenti, perché adesso vediamo il trattamento di questa prima, è la più pericolosa. Dunque, questa qui va scartavetrata, con una scartavetratrice, dipende se la superficie è piana, eccetera. Quindi le scaglie vanno tolte. Si fa attenzione a vedere se è bucato o no. E poi dopo, una ripotesi in cui dovesse essere bucata, non vi preoccupate, perché in commercio esiste uno stucco che, in pratica, è in grado di riparare i buchi anche sul ferro. Quindi questa, la carteggiata va, diciamo, ripulita, la perfezione, eventuali buchi vanno, diciamo, riparati e, alla fine, questa, diciamo, che è, non è ruvida, ma è liscia. Se però la ruggine è sparita, noi dobbiamo essere furbi, perché qui abbiamo un prodotto, che è il Ferrox. Il Ferrox io lo conosco molto bene, perché l'ho usato parecchie volte. Ed è effettivamente un prodotto a me, questi, non è che mi viene nulla in tasca. Questo è un tutorial per risparmiarvi dei lavori ripetitivi, che magari uno c'è una casetta al mare che vernicia un cancello, l'anno dopo siamo punti da capo. No, perché le cose bisogna, diciamo, capirle. Una volta capito il problema non esiste. Non perché le persone non lo, ma, diciamo, seguiamo passo passo e così veniamo, diciamo, al noccio della questione. Perché io questa prova l'ho fatta, quindi questa già l'abbiamo trattata. Però se la ruggine, qui parliamo di Ferrox, il Ferrox è un convertitore di ruggine, per cui chi l'acquista deve acquistare Ferrox, non altro prodotto, perché io ho provato altri prodotti e ho dovuto buttare, ho avuto amare sorprese. Questo mi pare che ancora sia un prodotto, diciamo, buono, buonissimo, rispetto a, diciamo, alle fregature che ho preso io. Se è così vogliamo usare questo termine. Allora, qui, in quest'altro, quest'altra immagine, vediamo che non ha bucato, non ha fatto le scaglie, però, diciamo, la ruggine c'è, quindi questa è la scarta vetrata, con una carta vetrata non eccessivamente grande. Questa vernice, se rimane, la possiamo usare come fondo, la possiamo tenere, oppure decidiamo di toglierla. Però, a questo punto, non è che noi abbiamo risolto il problema, se la superficie è a specchio, che non vi venga in mente, se proprio il ferro nudo si vede, che non vi venga in mente di usare Ferrox, perché il Ferrox, essendo un convertitore di ruggine, deve convertire qualcosa, se la ruggine non c'è che cosa converte. Bene, quindi io all'inizio mi riferivo al trattamento che facevano a queste cisterne e ad uso super professionale, perché poi dovevano contenere dei liquidi, petrolio, sostanze aggressive, sostanze pericolose, qui invece stiamo parlando di un cancelletto di casa, di una porta, di un garage, eccetera. Allora, questo lavoro lo possiamo fare adesso, che è inverno, facciamo questo lavoro e una volta la superficie pulita e perfetta, non mettiamo ferrox, aspettiamo la primavera, tre mesi, e speriamo che in questi tre mesi sicuramente farà la ruggine. Bene, quando è la ruggine appena spuntata, una cosa appena visibile, quando ciò si verifica, andiamo e versiamo il liquido del ferrox su una bacinella e passiamo questo ferro. Vedete la ruggina che colore è? Quando il ferrox è stato passato con pennello, succederà, non lo fate se piove, se è umido, eccetera. Succederà che la ruggine diventerà nera, diventerà nera. Quindi è quello il momento che voi capite che il ferrox ha fatto effetto. Difficilmente andremo a vedere ancora ruggine se non sarà graffiato e così via in futuro. Bene, dopo di che, dopo diciamo 24 ore, passiamo una mano di antiruggine, e a antiruggine asciugata si provvede a fare una verniciatura totale e finale, potete usare la pistola se avete a disposizione o il pennello. Il pennello, incrociate le pennellate per far sì che si veda il meno possibile il segno che il pennello lascia quando si fanno questi lavori. A questo punto possiamo dare anche due mani, nessuno ce lo vede, però è meglio non esagerare perché più lo strato aumenta e più si potrà screpolare o spaccare la vernice. Quindi lo strato non deve essere una cosa eccessiva. Un paio di passate, non è che mettiamo vernice lì perché pensiamo che poi abbiamo risolto il problema. Un paio di passate e spalmandola bene. A questo punto il gioco è finito, cioè abbiamo finito. Quindi i colori possiamo scegliere quelli naturalmente che vogliamo. Io però, questo potrà essere pure discutibile, non vi consiglio lo smalto, bensì la vernice alla nitro. La fate preparare il colore che volete. La vernice alla nitro si viene anche imbarata, ma se vi occorre un colore speciale potete farvelo anche preparare. La nitro è una vernice molto molto più resistente, si asciuga subito, perlomeno sono le prove che ho fatto io. Lo smalto è molto più delicato, non lo vedo adatto a queste cose. Bene, a questo punto io vi ringrazio di avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video.